La famiglia mia non mangia a casa, non mangia a Las Vegas e non mangia a Miami, coche lo giudio di Ayman Roth. Vi faccio qualche affare con voi, però vi dico in faccia che io disprezzo le vostre mascherate, le vostre e della vostra fortuita famiglia. Parli più forte, prego. New York City, ed è figlio di Vito Corleone. Il figlio sì, li voglio vivi. Ci provo, Rocco, vivi, capito? Michael Corleone, manda a saluta! Tutti conoscete Michael Corleone e tutti noi ricordiamo suo padre. Nel momento delle mie dimissioni, o della mia morte, io trasferirò ogni mio interesse e gli investimenti qui a La Habana sotto il suo controllo. Ma tutti sarete cointeressati. Se ti dico una cosa posso fidarmi? Diamine, mai! Io sarò assassinato. Quella dei Corleone era la famiglia, senatore. La chiamavano La Famiglia. I nostri uomini non sono qui per passione, ma sono per quadrini. Poggia su questo la loro fedeltà. All'imposto ordinava sistematività. Io lo sistemavo. Prendo l'idea. Gli amici tieniti ristretti, ma i nemici anche più stretti. Questo è l'ambiente che noi ci siamo scelto. E non domandai chi aveva dato l'ordine, perché non aveva niente a che vedere con gli affari. Gli amici tieniti ristretti, ma i nemici anche più stretti.